Poi mentre parla ragazzi, qua è Max de Lodge, o meglio da oggi sono da solo, oppure per chi non capisce Cioè ciao a tutti amici, io sono Max de Lodge, o meglio da oggi sono da solo e sono qui a presentare questo nuovo video Che ragazzi, mi sa che con ciuffo ribelle, è un nuovo pack opening abbastanza particolare Perché infatti all'incirca una settimana fa ho fatto il pack opening nella quale, ahimè, dovevo fare 10 pressioni Ogni pacchetto in cui non trovavo niente, ora mi sono tipo strallenato, sarei, posso fare neanche 20 Però non lo faccio perché so che voi uscite di me, comunque oggi siamo qui a presentare un'altra sfida Che è un po' più speciale o meglio diversa, perché infatti questa sfida con stranelli Andare ad aprire 10 pacchetti, 10 di numero eh, 10 E appunto se io troverò meno di 5 giocatori horrorari, a fine del video torno a perdere la dignità La mia dignità uguale dovrò lanciarmi, dato che sono state cose più richieste Un bell'uovo in testa, così, plack E questo perché lo faccio? Perché alla fine il video scorso aveva vinto i 7000 mi piace Quindi sono veramente strafelicissimo E quindi prima di iniziare volevo dire un paio di cose La prima è come sempre che volevo ricordare passando a wowvipa.com Se siete interessati a comprare anche di FIFA E mi raccomando utilizzate il codice Axel con due e come discount code Andrò a prendere perché sono veramente fenomenali Seconda cosa è commentate scrivendomi Le siete da portarvi nei prossimi pacchetti Non scrivetemi le cose da mangiare perché quelle Vabbè adesso non vi so dire o meglio si In un futuro io inizierò come ho già detto ormai cintinati volte Devo aspettare solo di trovare una buona videocamera O meglio una buona fotocamera anche videocamera Le challenge non ne rende a FIFA Quindi per quelle dovremo aspettare un attimo Comunque scrivetemi una cosa che posso fare appunto Nel prossimo pacchetti Detto questo direi di andare a iniziare Come vedete 1875 points Aprirò 10 pacchetti Se troverò meno di 10 Direi di 5 oggetti orrorari Sapete già quello che dovrò fare Direi subito di iniziare Con Higuain Io inizio già a sentirlo un po' la tensione Ok Iniziamo bene No orrorari ho detto Ndinga Ndinga becca E Deulofeu Che pensavo giocassi nell'Everton Lui è pagato Primo pacchetto Andato che è una meraviglia E via col secondo Andiamo di violenza Con Lionel Messi Ci sarebbe trovare anche un bel informare Lionel lo guardo Perché Si Yes Mascherano Siamo già due Così vi voglio Dai uno pacchetto Ce la facciamo una stragrande Mascherano Anche se sinceramente avrei potuto Avrei preferito trovare Messi Un argentino del Barcelona Adverso In questo caso Messi Al post di Mascherano Comunque ragazzi Volevo chiedere come stavate Perché alla fine è da un po' Che non ci sento Nel senso Non ho proprio Avevo fatto Il Road to Glory Il Road to Commander Che ho visto Che sono piaciuti Ma relativamente Quindi inizierò a Riprendere La solita piega Iniziamoci Dai Etenasard Dai che si hanno già tre Due in un pacchetto E' definita Aia Iniziamo adesso Ad incontrare le prime difficoltà Wayman Wayman Giocatori consumabili Almeno 10 euro Di cui tra l'ari Detto così Sembra che noi Andremo a trovare Messi al primo pacchetto Però Trunk Andiamo con il quinto pacchetto Tre giocatori L'hanno trovati E ne troviamo un altro Rui Patrissio Ce ne basta ancora uno Toi Toi Mercoledì L'ho aperto Quei pacchetto I crediti No Quindi non vale Dio santo Noe 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 Adesso Quindi ho perso il conto Noe No Non andiamo così Ragazzi Mi sto preoccupando I FIFA points Sono sempre meno Siamo a tre Giusto Giustissimo Dai Messi Ti prego uno Messi ti scongiuro No ragazzi Ti sto preoccupando Sul serio Ragazzi Sono teni su Sono tesissimo Ti scongiuro Fatti un ultra 60 Oh guarda E ne serve uno Se non ti ce ne ho Oddio no Quanti ne ho ancora Boh Ho perso il conto Mi sa che No Se non trovo niente qua È durissima Tipo Vediamo Sì Caceres Caceres E andiamo a quattro Dopo aver fatto questi semplici calcoli basilari Dietro alla mia squadra del fantacalcio Anzi ve la dico Abbiamo in porta Perin Viviano Consigli Come difensori Gamberini Richard Burdisso Basta Alex Sian Gambigua Campagnaro A centrocampo troviamo Gomez Brienza Hernanes Coman De Jong Widmer E Parolo In attacco Gomez Esherawi Caihon Bentivegna Amauri E Gezzal Bentivegna Che sembra un insulto E devo dire che con questa squadra Sto andando veramente male Comunque Trank Abbiamo detto Che allora abbiamo 675 Fiva points Abbiamo trovato 4 giocatori orari Quindi abbiamo a disposizione Ancora 2 pacchetti E se non trovo Lì anche un giocatore Orari 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 In questi due pacchetti Sapete già cosa dovrò fare Io non voglio farlo Quindi Messi ti prego È importantissimo Ce ne basta un oro Che arriva Che arriva Quindi Non faremo questa sfida Ma che bello Ringrazio la persona Che mi ha la giocatore Infatti E quindi Non è che come Sono veramente casato Io avevo paura di farla ragazzi Avevo paura di farla Sul serio E quindi meglio Ora potrò aprire L'ultimo pacchetto Con calma Io direi di andare A aprire quello promo Cioè Quello promo Strabecca Becca un macello Senza corboro Chiudiamo gli occhi E li riapriamo Mio dio Che schifo Muntari Chi sono E ragazzi Ultimo pacchetto Proprio easy Dato che non abbiamo Più niente da fare Mi raccomando Consigliatevi una sfida Da fare nei prossimi episodi Non troviamo niente Quindi proprio al pelo Ce l'abbiamo fatta Meno male Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video Ci sia giusto Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace E vi dico potente Paese